Camilla Stengel Allora grazie, questo saluto faccio nel nome di mio marito con tutto il cuore, lui e anche io siamo molto contenti e grati di poter fare vedere le sue opere in questo bellissimo posto, il salone di Don Tatello e tutto il complesso di San Lorenzo. E speriamo che facciamo anche una gioia a tutti gli altri con questo e ci ringraziamo di nuovo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.